Il corso di laurea in tecniche per l'edilizia e la gestione del territorio si svolge a potenza presso il campus di Macchia Romana, all'obiettivo di formare una figura tecnico-professionale qualificata fortemente orientata all'ingresso immediato nel mondo del lavoro, con un'accentuata attitudine all'uso delle moderne tecnologie, in grado di rispondere alle richieste del settore dell'edilizia e delle infrastrutture civili e rurali e della gestione del territorio. Il corso di durata triennale ha un accesso programmato locale che consente l'iscrizione fino ad un massimo di 40 studenti e prevede un test d'ingresso obbligatorio online. Nei primi due anni vengono fornite conoscenze e competenze scientifiche di base e delle discipline tecniche al fine di rafforzare la formazione dello studente e consentire una corretta comprensione e impostazione formale e metodologica. Oltre alle lezioni frontali sono previste attività di laboratorio, individuali e o di gruppo, da svolgere in campo e o in cantiere. Gli studenti hanno la possibilità di essere supportati da attività di tutorato. Il terzo anno è quasi interamente dedicato al tirocinio professionalizzante, svolto presso studi tecnici, imprese, amministrazioni pubbliche o private, finalizzato a comprendere la formazione in un contesto lavorativo. Questo rappresenta un momento di fondamentale importanza per il completamento e l'arricchimento della formazione dello studente che ha l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite, affrontando e risolvendo problemi del contesto lavorativo. Gli studenti, nell'ambito del programma Erasmus, possono svolgere esperienze all'estero presso università europee. Lo studente ideale deve essere motivato e curioso e avere attitudine per gli insegnamenti del percorso formativo, nonché essere orientato all'inserimento nel mondo del lavoro al termine del corso di studi. Nel contesto lavorativo, il laureato potrà svolgere la libera professione in numerosi ambiti o funzioni di supporto alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, sviluppate da figure professionali di livello superiore, come dipendente di studi o società di ingegneria, imprese di costruzioni, aziende di produzione, enti locali e pubbliche amministrazioni.